Roma passa agli ottavi di finale di Europa League pareggiando 1-1 contro il Gent in trasferta Il Gent fa una grandissima partita sostanzialmente ma non riesce a segnare gli altri due gol che avrebbero concesso la vittoria al Gent Dato che la partita d'andata era finita 1-0 con gol di Carles Perez Al ritorno il Gent doveva vincere 2-0, comunque 1-0 per portarsi al massimo ai supplementari Però la Roma ha segnato il gol dell'1-1 con Kluivert nemmeno a una distanza di minuti incredibile dal gol dell'1-0 Del Gent, adesso non ricordo con esattezza chi ha segnato quel gol Però è arrivato subito l'1-1 di Kluivert La Roma non ha fatto una grande partita, ha fatto sostanzialmente una partita di contenimento Una partita per difendere quel risultato, non si è nemmeno sforzata più di tanto a segnare e comunque a creare un bel gioco Però la Roma in ogni caso esce con l'evidente tasso tecnico superiore della Rosa rispetto alla squadra avversaria Però il Gent tutto sommato, ripeto, fa una grandissima partita, peccato per quel gol preso da Kluivert Altrimenti il Gent, secondo me, avrebbe potuto anche segnare il secondo Però un piccolo calo di concentrazione è costato caro al Gent Roma che sicuramente può essere contenta, per carità, per il passaggio alle ottavi di finale di Europa League Però se passi addirittura così su misura l'andata vinto 1-0 al ritorno a pareggiato 1-1 La Roma passa giustamente per 2-1 nella totalità dei gol tra andata e ritorno Però poteva fare assolutamente qualcosina di più rispetto, magari, che so, alle partite che ha fatto alla data che ritorno Comunque è il Gent, non è una grande... cioè il Gent, il Gent, il Gent Poi magari trovi agli ottavi, che so, una squadra forte, una squadra abituata a giocare a questi livelli Abituata a giocare in queste competizioni, abituata a giocare in Europa D'esperienza, e lì la Roma, secondo me, giocando in questo modo Sottovalutando questa competizione, non riuscirà a passare i quarti di finale Molto dipenderà dalla fortuna che avrà la Roma nel sorteggio degli ottavi di finale Ma già dagli ottavi di finale d'Europa League incontri squadre che, se giochi in questa maniera qua, possono metterti seriamente in difficoltà La Roma sicuramente deve cambiare atteggiamento, assolutamente, perché così non si va avanti E mi dispiace, perché, ripeto, le squadre italiane tutte sottovalutano questa competizione Quando invece può essere una competizione riserva rispetto al quarto posto Ti porterebbe in Champions League, al classico quarto posto Quando invece basta vincere l'Europa League, impegnarti, perché nessuna squadra si impegna per l'Europa League Basta solamente impegnarsi, vincere quella competizione E poi ti dà l'accesso diretto alla Champions League Oltre che alla partecipazione alla Supercoppa Europea Contro la vincitrice della Champions League Quindi comunque, non sto parlando di aria free, non sto parlando di chissà quelle competizioni brutte Anzi, è una competizione che dovrebbe stimolare i giocatori Non ridurli a fare certe prestazioni Non so che la Roma ha fatto una prestazione obrobriosa Però contro il Gentio mi aspettava una prestazione più sostanziosa O sostanziale, adesso non mi ricordo con esattezza Se si dice sostanzioso o sostanziale Comunque, tralasciando questo mio piccolo dubbio E fatemi sapere con un commento qua sotto Che ne pensate di questa Roma Che ne pensate della partita del Gentio Perché nonostante tutto ha fatto una bella partita E la Roma, nonostante tutto, passa agli ottavi Bene così, adesso vediamo l'Inter cosa farà